ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video oggi una nuova macchina bluetti e soprattutto un nuovo capitolo della saga dell'indipendenza energetica perché vi tiro subito uno spoiler grosso come una casa io con questa macchina quando c'è il sole non compro un watt da enel ep 500 pro bluetti macchina che vi dico subito è una c300 ricarruzzato e con più accumulo più accumulo vuol dire che a 5.1 kilowattora di batteria che sono quasi il doppio di una 3 kilowatt per ac 300 costa 5.700 euro contro i 4.000 euro di una c300 ma una c300 con due batterie ad esempio vi costerebbe 6 e 4 se non dico una cavolata quindi comunque risparmiamo qualcosina però attenzione lo vedrete poi nel video quella batteria com'è rimane ci sono dei modi per espanderla ma virtualmente non realmente diciamo che è fatta per stare così com'è 3 kilowatt in uscita arriva anche a 4 non mi soffermerò a fare le solite prove attaccare il phon eccetera guardate anche il video di ac 300 perché le avevo già fatte tutte e la stessa macchina due ingressi solari quindi per fotovoltaico separati m ppt ottimi funzionano esattamente sono gli stessi di ac 300 1200 watt per stringa 12 ampere di corrente massimo 150 volt per stringa quindi una da 150 volte una da 150 volte poi non andate oltre 145 140 perché rischiate ma i valori di cui parliamo sono sempre separati e le due stringa così ragazzi ce l'hanno solo loro inutile che cerchiamo di fare paragoni eccetera ma l'efficienza e l'ottimizzazione che si ha dall'ingresso solare di queste macchine non ce l'ha nessuno lo sapete ve l'ho già spiegato io non faccio video solo per loro non sono sponsorizzato non sono pagato questo discorso lo avevo già fatto io la roba preferisco comprarmela ma essere indipendente di provare quello che voglio poi per fortuna la pago un po meno perché sono diventato rivenditore e ho scelto è stata un'altra fila è stato un casino ma se ho scelto di diventare il rivenditore di questa roba e mi prendo la responsabilità di darvela e a volte anche di installarvela è perché non è che mi fido le ho provati e so come lavorano senza fare discussioni a fine video inutile o discussioni nei commenti bluetti pecca ancora un po nell'assistenza purtroppo sono sottodimensionati come organico per chi si occupa di queste cose quindi bisogna tra virgolette sperare che la macchina arrivi funzionante al 100 per cento per fortuna la maggior parte funzionano ma ci sono stati dei casi anche nei gruppi facebook lo sapete di gente che ha avuto problemi sono lenti un po impacciati un po evasivi insomma bisogna ricorrere in maniere forti per far valere la garanzia non è una cosa simpatica ma purtroppo è così cosa devo fare è così anche per me che le vendo però non è che spariscono e non vi cambiano la macchina la macchina che ha problemi se va da cambiare si cambia importante è comprarle su rivenditori autorizzati oppure comprarla su amazon oppure comprarla da me me la vedo io perché perché se andate a comprarla su siti cinesi o altri che importano eccetera poi ci sono problemi di assistenza con tutte le leggi dritti e quello che volete diventa più complesso spacchetto la macchina che comunque lo spacchettamento è un po complicato andiamo avanti col video vi faccio vedere vari passaggi prove installazione eccetera e poi traiamo le conclusioni alla fine vi dico solo una cosa scusate perché in alcune parti del video la qualità dell'audio sarà ingracchiante brutta non sono riuscito a sistemarla molto perché avevo i rode con il guadagno troppo alto mea culpa vi arriva un bel pallet un pallet piccolino 80 x 40 sviluppato in altezza del peso totale di circa 110 kg perché la macchina da sola pesa quasi 80 kg 76 per la precisione adesso lo sbagliamo così vediamo anche come è fatto l'imballo e poi vado a posizionarlo al posto del mio ac 300 dopo aver tolto tutto il telefono mi trovo con il prodotto con il suo bancalino originale appoggiato su un secondo bancale probabilmente viene fatto dallo spedizioniere per dargli un po più di stabilità arriviamo così all'imballo vero e proprio dobbiamo semplicemente tagliare le reggette e scoperchiarlo molto molto ben protetto avete visto tutto l'imballo tutto tenuto fermo dalle reggette tutte queste abbondanti protezioni intorno la macchina arriva per forza di cose sana e salva destinazione ora arrivati a questo punto per tirarla fuori conviene essere in due perché bisogna alzarla e appoggiarla sul pavimento dopodiché potremmo muoverla agilmente con le ruote molto importante sopra la protezione in schiuma della parte superiore dovete tirarla via dal coperchio della scatola di cartone perché troverete il manuale di istruzioni il sacchetto bluetti a cui ormai ci siamo abituati con tutti gli accessori sempre tenuti dalla fascetta marchiata bluetti abbiamo la spina asciuco per la connessione alla rete per la ricarica e diciamo il bypass in modalità ups vedremo se ha anche la funzione pv priority un cavo type c da una parte dall'altra che normalmente non viene dato con le altre macchine qui c'è sarà sicuramente un cavo ad alta potenza per supportare tutto quello che può dare in uscita tra l'altro ben fatto di tipo telato questa volta c'è è il nostro solito cavo per le due stringhe quindi da connettere sulla macchina con le due stringhe più e meno marchiate dc1 e dc2 una domanda che mi fate spesso è perché dobbiamo tirare linee per i pannelli magari da 10 metri 20 quello che sia da 4 da 6 mm in base alla lunghezza e poi arriviamo alla macchina ed entriamo con dei cavetti così piccoli la sezione in dc è una questione di lunghezze quindi la corrente e la tensione che passa attraverso questo metro di cavo con questa sezione piccola che poi non è tanto piccola semplicemente ha poca guaina intorno però verosimilmente sembra un cavo con l'interno da circa due millimetri e mezzo è sufficiente per questa lunghezza di cavo a non avere perdite di corrente e tensione appunto perché è molto corto discorso cambia quando dobbiamo tirare 5 10 20 30 metri di cavo stringa per arrivare i pannelli allora lì per non avere cadute di tensione perdita bisogna avere una sezione maggiore si parte normalmente sempre dal 4 per distanze importanti è meglio ricorrere al 6 ok adesso analizziamolo per bene dunque intanto diciamo che mettendolo anche a vista è un oggetto che non dispiace per il colore chiaro per le finiture le scritte molto curate studiato per un ambiente dove può rimanere anche a vista non è male partiamo subito dalla parte posteriore parte posteriore dove abbiamo una griglia per la reazione quindi bisogna tenere uno spazio tra la griglia e la parte posteriore il maniglione per tirarlo fuori qui dietro abbiamo i numeri di serie qr code tutto quello che serve è molto importante se vi arriva provate accendere non funziona è perché qui dietro c'è uno switch un interruttore generale da tirare su per armare le batterie ma una cosa ancora più importante che qui sotto non so se si vede c'è una vite per la messa a terra quindi il dispositivo va messo a terra portando un cavo di grossa sezione almeno da 6 e creare qui sotto un punto di terra vedremo poi se serve per avere il neutro in uscita anche senza la spina connessa ma faremo poi tutti i test del caso come al solito l'altro lato che è uguale al precedente parte superiore dove abbiamo le due ricariche wireless a 15 watt ciascuna e questo sportello che si apre a pressione dove abbiamo tutte le uscite dc abbiamo le due usb c da 100 watt massimi totali che possiamo utilizzare tranquillamente con il cavo che abbiamo visto in dotazione abbiamo queste due usb a per ricarica rapida fino a 36 watt totali e due usb normali da 3 ampere tutti questi dati sono comunque anche scritti sulla seriografia molto curata della zona dc abbiamo poi due connettori per uscita 12 volt da 5,5 mm classici che portano fino a 10 ampere totali qui abbiamo l'uscita accendisigari sempre 12 volt 10 ampere e qui abbiamo la nostra famosa uscita 30 ampere sul 12 volt con il connettore che avevamo già visto avevo usato su ac 300 che non ho comprato direttamente da bluetti ma vi lascio un link alternativo per procurarvelo qui è molto comodo perché con 30 ampere in uscita sul 12 volte vi avevo già spiegato e fatto vedere che possiamo tranquillamente realizzare magari una linea luci con delle strip led o comunque delle luci in tensione 12 volt sfruttando direttamente l'uscita a bordo della macchina senza passare dall'inverter quindi avendo un'ottimizzazione dei consumi tutta questa parte in dc se non viene usata può essere lasciata chiusa sportello che è molto bello come tutta la plastica che denota un prodotto veramente di livello superiore io lo sapete faccio recensioni di varie marche sono uno dei pochi se non il solo la qualità di bluetti non si discute poi possiamo discutere di tutti i problemi che possono essere legati alla gestione l'assistenza alle risposte tutto quello che volete però la qualità costruttiva e di materiali del prodotto non si discute sportello che può essere lasciato chiuso se non usiamo l'uscita dc qui c'è un adesivo che viene raccomandato di non toglierlo perché ricorda che sarebbe meglio non avere bambini che gironzolano intorno all'apparato qui abbiamo il display touchscreen è lo stesso di ac300 e c500 parte qua estetica protetta da pellicola tasto di accensione che adesso non funziona perché le batterie sono ancora ad armare qui abbiamo le altre griglie di aerazione quindi deve consentire questa zona il passaggio d'aria per il raffreddamento l'altro maniglione e tre prese sciuco in uscita qui sotto abbiamo un altro sportello con semplicemente tre connettori uno per l'ingresso a chip quindi per il cavo con la spina uno per le due stringhe poi c'è un cavo di comunicazione anche qui un comodo sportello molto curato anche qui i cavi sono gli stessi di ac300 non mi soffermo se avete visto quel video sapete già di cosa sto parlando sono i classici connettori circolari che si innestano si abitano e sono sicurissimi estetica della macchina abbiamo detto ben fatta materiali non si discutono adesso la sposto ok per adesso ho attaccato solo il cavo delle due stringhe che tra l'altro è lo stesso cavo di ac300 non l'ho neanche dovuto cambiare ho usato quello che avevo già ho già armato l'interruttore posteriore semplice pressione lui fa l'avvio fa l'inizializzazione e ci troviamo nel menu principale display touch esattamente come nelle macchine che abbiamo visto in altri video ora è tutto a zero e ancora in tedesco l'ora e la data sono perfettamente sincronizzate quindi avendo anche il circuito di batterie staccate deve avere un suo piccolo tampone interno per mantenere le impostazioni di ora e data inizio a tirare sulle stringhe dai quadri di protezione così vediamo se inizia a entrare qualcosa perfetto come negli altri casi si illumina di arancione l'indicatore stringhe vuol dire che stanno lavorando e sto producendo adesso 500 watt sono un po pochi un po presto però iniziamo a produrre arriva con la batteria al 67 per cento che è una percentuale buona per tenere le batterie in stoccaggio e ancora tutto in tedesco quindi andiamo un attimo nelle impostazioni e cambiamo subito lingua dunque entrando nel menu stringhe abbiamo esattamente tutti i valori come siamo abituati a vedere quindi ho una stringa che mi sta producendo 400 watt una che ne sta producendo un centinaio con tensioni da 100 a 60 volt diamo un'occhiata alle impostazioni e poi andiamo avanti con le prove possiamo scegliere come al solito negli ingressi se abbiamo un fotovoltaico o altri ingressi possiamo abilitare o disabilitare buzzer attivare o disabilitare l'eco mode dove se non sente carichi che tirano corrente per circa quattro ore va a disabilitare l'uscita c funzionamento perfetto abbiamo tutto quello che ci è sempre piaciuto in c300 e in ac500 quindi standard ops è la modalità dove lui in continuo da sempre corrente in uscita e prende corrente da tutti gli ingressi che riesce ad utilizzare per tenere le batterie cariche time control è una modalità per gestire questa funzione ma con degli orari programmati che comunque può essere utile ad esempio per chi ha delle fasce orarie di fornitura del vostro gestore gratuite a noi piace la pv priority ups e io ottengo come al solito una percentuale del 20 per cento ingresso massimo di corrente dove in modalità base possiamo scegliere se dalla rete deve caricare 3 5 7 o 10 ampere perché serve perché ad esempio in una casa come la mia dove i bluetti gestisce una parte della casa quando finisco l'accumulo ma in questo caso magari non finirà decido di prelevare dalla rete poca corrente per non andare a aumentare il consumo istantaneo e avere magari un distacco del contatore in modalità basic possiamo scegliere da 3 a 10 ampere in modalità avanzata ma dovete richiedere la password a bluetti vedete che abbiamo scelte da 5 a 16 ampere ma possiamo tranquillamente definire un ampere o arrivare fino a 16 abbiamo poi la funzione parallela che nella realtà dei fatti non la usiamo mai perché per il pv conviene sempre lasciarli indipendenti possiamo attivare il bluetooth il wifi abilitare o disabilitare il touch regolare la luminosità del display e anche dopo quanto tempo si deve spegnere io adesso lo disabilito così riusciamo a usarlo tranquillamente data e ora abbiamo visto che sono ok e qui abbiamo la possibilità di fare un factory reset come facciamo ora configurare la macchina per metterla in rete quindi gestirla con l'app entriamo prima col bluetooth apriamo quindi l'app bluetti oltre alle mie due macchine aggiungiamo una nuova macchina facendo la scansione del qr code che abbiamo dietro a questo punto ci chiede di connetterci alla nostra rete wifi che viene identificata mettiamo la password la salviamo rete che deve essere a 2,4 gigahertz perfetto quindi la nostra macchina viene aggiunta all'account adesso abbiamo anche un ep 500 pro e visualizziamo esattamente come al solito quello che c'è a display nella nostra applicazione le impostazioni di funzionamento come facciamo a vedere se ci sono aggiornamenti firmware andiamo nella macchina disabilitiamo il wifi riaviamo l'applicazione rientriamo nel nostro ep 500 premiamo però il tasto bluetooth quindi l'app vedete che si connette in bluetooth rientriamo sempre dentro la macchina apriamo le impostazioni e andiamo su firmware upgrade vedete che c'è un aggiornamento perché abbiamo la 90 41 02 installata ma è già uscita la 90 41 03 quindi premiamo download firmware scaricato facciamo start diamo ok e lui parte con l'aggiornamento abbiamo la percentuale che aumenta nell'applicazione e attendiamo che abbia finito appergate effettuato premiamo ok chiede di riconnetterci quindi usciamo rientriamo con la connessione bluetooth e siamo perfettamente rientrati con la macchina aggiornata diamo un'occhiata se ci sono altri aggiornamenti attualmente è tutto aggiornato riattiviamo il wifi wifi che non è obbligatorio serve solo per gestire la macchina da remoto o se non siete nelle immediate vicinanze il wifi chiaramente ha un consumo quindi se non avete l'esigenza conviene tenerlo staccato e connettervi solo l'occorrenza se non avete proprio bisogno di connettervi mai spegnete anche il bluetooth io adesso lascio attivo il wifi esco dall'applicazione aspetto che la macchina si riconnetta ed è già connessa quindi in questo modo posso gestirla da remoto gestire da remoto vuol dire avere il controllo di quello che produce quello che consuma e gestire l'attivazione di uscite dc e ac nonché cambiare anche da remoto la modalità di lavoro quindi ups pv priority e tutte le programmazioni anche degli orari app che ultimamente è stata migliorata vedete che è un po più veloce funziona bene l'unica cosa dovete avere l'accortezza ogni volta che uscite di chiuderla dalle applicazioni in esecuzione perché se no avete problemi di avviarla vedete che in questo modo è abbastanza veloce abbastanza reattiva e si riesce a connettere sempre a tutte le macchine vedete in questo caso mi dà le b3 app che si può connettere solo con bluetooth la c300 che non è adesso connesso perché è spento e il nostro ep500 pro che riusciamo a visualizzare tranquillamente proviamo ad abilitare l'uscita c questi sono i tempi di risposta la macchina si accende subito l'app ci mette ancora qualche secondo a notificare l'accensione vedete che si accende subito e sull'app arriva dopo un po un'altra cosa interessante il fatto che nell'applicazione riusciamo a tenere un conto di tutti i kilowattora che abbiamo generato dal fotovoltaico da quando l'abbiamo messa in funzione nell'app ok ora facciamo la connessione di terra togliamo la vite qui ci andrebbe un occhiello un capicorda con foro da 5 in alternativa se non avete la pinza e capicorda eccetera vi faccio vedere un modo efficace per usare i punti di terra bisogna intagliare la guaina per una certa lunghezza tirarla fuori ma non tutta in modo da lasciare un pezzo di rame a vista infilare un cacciavite a metà per creare uno spazio in questo modo inserire la vite se non è sufficiente lo allargate ancora inserire la vite stringere questa parte vedete che abbiamo un ancoraggio sicuro un buon punto di contatto e non abbiamo filo in giro perché la parte del rame non rimane a vista ma rimane comunque nella guaina andate ad avvitarla e abbiamo comunque un buon punto di massa non è come col capicorda ma in emergenza va bene farlo anche così ok adesso facciamo la solita prova per vedere se esce bifase o monofase siamo attualmente sconnessi dalla rete la spina non è collegata attiviamo l'uscita c vediamo che qui c'è fase e qui c'è fase questo cosa vuol dire come tutte le power station inverter ovviamente non riesce a dare in uscita fase neutro neanche attaccando la terra quindi la terra non va a creare un bypass su una delle due fasi per avere il neutro in uscita ma serve solo come sicurezza come messa a terra della struttura quindi per avere il neutro usarla completamente a isola dovete guardare il video che avevo fatto sul funzionamento dei salvavita o altrimenti sicuramente attaccando la spina per l'alimentazione da rete avremo il neutro in uscita connettiamo il cavo a c vedete che il simbolo grid rete si è illuminato ma non preleva nulla perché sta gestendo dal fotovoltaico riattiviamo l'uscita c e in questo caso abbiamo il neutro in uscita perché il cerca fase si accende solo sul filo di fase quindi funziona esattamente come tutte le altre macchine che abbiamo provato prima una particolarità quando andrete a collegare le spine per eventualmente interfacciarvi all'impianto elettrico è buona norma montare le spine o comunque testarle per sapere da che parte esce la fase e da che parte esce il neutro perché l'uscita fase neutro della macchina deve essere corrispondente alla fase neutro del vostro impianto come si fa potete fare tranquillamente un test in questo modo quindi io ho segnato che il filo marrone è sul polo destro della spina attivo l'uscita c vedo che la fase esce effettivamente solo sul filo marrone questo cosa vuol dire vuol dire che i poli di destra delle tre prese sono le fasi collego quindi le mie tre linee di casa io le spine le avevo già segnate per utilizzarle su ac 300 quindi so che la fase deve essere a destra esattamente come sono su ep 500 pro ok accendiamo la parte a c è tornata la luce nel locale aspettiamo che il carico si stabilizzi e io in questo momento sto alimentando tutta la parte di casa collegata con una produzione superiore al consumo quindi mi sta caricando anche le batterie oltre ad alimentarmi tutto il circuito a cui sono collegato ok come ho collegato io questa macchina al tutto l'impianto sia delle stringhe fotovoltaiche che della casa ve l'avevo già fatto vedere in altri video ma ve lo faccio rivedere così avete più chiara la situazione adesso tutto il discorso di fissaggio passaggio cavi e tubi è buttato un po così in modo provvisorio perché era stato cablato per avere qui la c 300 con p 500 che ha le prese molto basse chiaramente ho dovuto tirare via i cavi dalle tubazioni metterlo in modo un po più provvisorio io l'ho gestita in questo modo la macchina parte con tre cavi che sono tre cavi da due e mezzo quindi 16 ampere di portata ciascuna i tre cavi cosa fanno tramite le tre spine vanno a gestirmi tre sezioni della casa che sono questo che il piano interrato che comprende taverna lo studio dove registro la cantina e il box una linea esterna che riguarda il giardino le luci esterne eccetera è una linea che riguarda l'alloggio che ho qui sopra poi ho due quadri che gestiscono la protezione e il sezionamento delle due stringhe due stringhe che sono una stringa che ho sulla parete con tre pannelli che in realtà adesso ho tirato giù perché farò degli altri video è una stringa con altri due pannelli da 400 watt che ho messo sulla ringhiera di un balcone nel dettaglio vi faccio vedere che ho la stringa parete con il quadretto con sezionatore scaricatori e fusibili la stringa ringhiera con sezionatore scaricatore e fusibili dei quadri string avevo fatto un video molto interessante andate a guardarlo c'è poi il quadro del bluetti il quadro del bluetti è fatto in questo modo c'è la sua presa dedicata per la rete protetta da magneto termico e che posso all'occorrenza staccare o attaccare poi ho due salvavita e un magneto termico dunque queste sono le tre linee che arrivano dal bluetti una con un salvavita che protegge il giardino una con un salvavita che protegge taverna e box e qui sopra ho un semplice magneto termico perché mi consente di scegliere da questo quadro se mandare o meno corrente in casa ma è solo magneto termico perché vi farò vedere che poi la linea che arriva in casa ha un'altra sua protezione e selezione anzi andiamo a vederla subito questo è il quadro di casa mia dove qui c'è la zona generale bluetti eccetera io qui ho il generale dell'alloggio quindi è il salvavita che protegge tutto l'alloggio questo salvavita fa capo a un commutatore perché questo commutatore mi fa scegliere se prelevare energia da enel o da bluetti questo perché con una batteria da c300 una b300 io non riuscivo ad avere il fabbisogno necessario per tutta la casa quindi ho deciso di usarlo solo per la parte che vi ho fatto vedere prima ma in giornate di particolare sole e soprattutto quando sono da solo a casa perché posso gestire questa commutazione a mio piacimento io posso girare anche la casa sul bluetti ma non arrivando mai a mattina con i consumi che ho in casa e i consumi passivi ho scelto di poterlo gestire manualmente questo qui è un altro salvavita che gestisce la presa per la ricarica del bluetti che a sua volta sotto aveva un magneto termico quello era un magneto termico per comodità o comunque per manutenzione io da qua sopra posso decidere se andare a togliergli o meno corrente in caso di bisogno o di utilizzi e configurazioni differenti quindi io casa ce l'ho protetta dal suo salvavita e posso scegliere se alimentarla col commutatore da enel o da bluetti mentre tutto il resto della casa la parte sotto la parte fuori è collegata sempre e comunque al bluetti di questo commutatore anche avevo fatto un video interessante andatelo a guardare e l'ho piazzata vi ho fatto vedere i quadri vi ho fatto seguire un attimo l'impianto adesso lo so già che vi piacerebbe avere lo schemino quello a mano libera semplice da capire quindi facciamolo e guardiamolo un attimo insieme lo schemino è semplicemente questo allora io ho il mio contatore enel il contatore enel va a un magneto termico che gestisce solo la presa che ricarica i bluetti quindi l'unico collegamento diretto tra enel e bluetti è questa linea per alimentarlo in caso non ci sia produzione ma attenzione questo è un collegamento di ep 500 pro come carico come se fosse un elettrodomestico lui non manda mai energia in rete lui la prende all'occorrenza e basta ep 500 pro che è alimentato da due stringhe di pannelli tre pannelli da 3 75 in serie e due pannelli da 400 in serie questa è una soluzione provvisoria sto preparando un video perché sto costruendo un carrello con le ruote per portare questi tre pannelli più un terzo pannello da 400 quindi due strutture mobili per avere due kilowatt buoni anche qualcosa in più che mi caricano le p 500 in tempo zero le uscite sono collegate a un magneto termico che gestisce tutta la parte sotto di casa mia a un altro magneto termico differenziale perdon mtd mtd magneto termici differenziali salvavita che mi fanno box e giardino perché con due cavi non con uno solo perché un cavo porta 16 ampere con la spina quindi meglio dividere le linee poi c'è la terza linea che va ad alimentarmi casa tramite un commutatore manuale magneto termico di casa più tutte le altre protezioni ma qui io ho la scelta perché nel caso ci sia tempo brutto non ci sia produzione o per chissà quale motivo devo staccare bluetti io posso scegliere di prelevare da enel per la casa e non dal bluetti quindi facendo uno switch manuale perché io non amo negli ats e nei contattori nonostante vedi abbia proposti ma solo perché me ne avevate chiesti io preferisco scegliere manualmente se non prendere dal bluetti ma direttamente da enel ok volevo ancora farvi vedere che quando la macchina è collegata alla rete quindi vede la rete grid mi da neutro in uscita ma segna 0 watt di consumo perché sta lavorando col fotovoltaico effettivamente sulla spina ha un assorbimento di pochissimi watt oscilla fra i 3 e 4 watt anche se non sta prelevando per caricare le batterie questo valore non è costante non è sempre sui 3 4 watt molto spesso lo trovo anche a zero non so darvi una spiegazione tecnica più precisa di questa piccola dispersione ok macchina piazzata cosa cambia da questo ep500 pro alla c300 che avevo prima non cambia praticamente niente semplicemente abbiamo meno presa in uscita perché ne abbiamo solo tre mentre su ac300 ne avevamo sei questo perché ne venivano date di più perché era un dispositivo pensato magari un pelo più per la mobilità nonostante pesasse 30 chili l'invertere 30 e qualcosa chili le batterie qui abbiamo un dispositivo che è fatto più per stare a casa perché ha le ruote io le ruote le vedo più una comodità nello spostamento nell'installazione perché non è comunque un dispositivo fatto per portarselo in giro per casa ma si potrebbe fare perché magari di giorno lo caricate con le stringhe del fotovoltaico e la sera ve lo portate negli ambienti dove vi serve attaccare il computer il frigorifero eccetera oppure lo tenete carico in un angolo e in caso di blackout se vi interessa comprarlo solo per quel motivo lo portate vicino ad esempio ai freezer ci sono vari modi io sto conoscendo molti di voi che mi fanno piazzare i prodotti bluetti in molti modi diversi perché ognuno ha le sue esigenze c'è chi lo compra per cercare di ammortizzarlo e ripagarselo in x anni c'è chi lo compra a fare investimento solo per avere una fonte di energia in caso di blackout varie tipologie che magari io non avevo neanche pensato ma che molti di voi mi fanno conoscere come loro esigenza lui ha sempre 3 kilowatt in uscita quindi dopo faremo un po di test per caricarlo e vedere quanto sopporta ma in pratica è una c300 con le ruote e la batteria più grossa come fatto semplicemente qua ci sono due file di batterie e qui sopra c'è tutta l'elettronica la parte elettrica con i dissipatori per il passaggio d'aria del raffreddamento raffreddamento che devo dire parte un po meno di ac300 perché adesso sta producendo 7 800 watt e notavo che la c300 andava in raffreddamento anche con la produzione del fotovoltaico qui sta producendo parecchio e ancora non ho sentito partire le ventole quindi una zona di raffreddamento di dissipatori più grossa che magari richiede meno accensione delle ventole ci sta perché ac300 un prodotto da tenere diciamo un po più in disparte questo è fatto per stare proprio in casa quindi hanno cercato di ottimizzare il raffreddamento per far partire le ventole il meno possibile vediamo se mi aiuterà ad alimentare più parti di casa avendo più accumulo perché bisogna capirlo perché ac300 c500 possiamo aggiungere x batterie per aumentare la capacità qui la batteria da 5.1 kilowatt è un taglio più grosso ma in teoria come rimane è poi vero che possiamo espandere l'autonomia collegando con un cavo apposito le batterie b230 b300 b300s anzi probabilmente solo b230 e b300 come si collegano c'è un cavo che praticamente dall'ingresso dc del fotovoltaico diventa connettore quello grosso delle batterie che avevamo visto serve per aumentare l'autonomia perché semplicemente dalle batterie buttate energia tramite il connettore dc quindi è come se caricasse tramite non pannelli ma la batteria esterna è un sistema diciamo per aumentare l'autonomia però non è come aumentare l'autonomia su ac300 e c500 perché qui andiamo a staccare l'ingresso fotovoltaico per fargli entrare la tensione delle batterie quindi non abbiamo più il fotovoltaico mentre su ac300 e c500 aggiungiamo tutte le batterie che vogliamo e continuiamo ad avere le stringhe collegate che le caricano tutte diciamo che questo nasce più per essere utilizzato con questi 5 kilowatt e basta esattamente la configurazione che io ho appena realizzato abbiamo meno prese in uscita sì però ad esempio nel caso di casa mia le tre linee che avevo combinazione vanno bene per le tre prese bisogna un attimo capire se è un prodotto che può fare al caso vostro nel mio caso sicuramente è un upgrading perché con la stessa configurazione gli stessi regolatori mppt separati per le due stringhe che tra l'altro lavorano esattamente come gli altri vedo che più o meno danno gli stessi valori o una macchina con le stesse caratteristiche ma più accumulo bene come lavora adesso questa macchina a casa mia lavora che è una bomba e ve lo spiego con degli screen e anche un pezzo di video dunque io la mattina quando esco di casa quindi mi sono già alzato io si è già alzata mia moglie abbiamo già aperto il frigo abbiamo acceso delle luci eccetera riesco ad arrivare alle 8 di mattina quando esco con il 20 per cento di batteria 20 per cento che è tanta roba perché io l'ho impostata a 15 quindi non ci arriva più e non compro energia lei durante la mattina inizia poi a caricare perché non c'è nessuno e i consumi di casa mia vedete che sono 300 e passa watt si potrebbero diminuire di molto quindi più riuscite a diminuire con questi consumi passivi più andate a gravare meno sulla batteria scusate il gioco di parole ma quello è l'epo inizia a caricare tutto quanto io arrivo a pranzo mi trovo con la batteria ad esempio al 58 per cento la mattina da me inizia a rendere bene dopo le 11 non prima e ho ancora i pannelli provvisori messi male e ne manca ancora uno da aggiungere a una stringa quindi tutto in condizioni molto molto migliorabili quindi cosa faccio arrivo a casa tiro un chilowatt e mezzo perché magari accendo il forno mi scaldo da mangiare eccetera lei intanto sta producendo un chilowatt e 4 che comunque è già tanta roba andiamo avanti sono le tre ho finito di mangiare magari faccio due cose a casa prima di andare in negozio ho già la batteria al 97 per cento perché con un chilowatt e 6 di pannelli produce tanto e carica anche velocemente cosa faccio prima di uscire attacco una lavastoviglie che tira due chilowatt e due così l'ho fatta durante il sole e posso andare via tranquillo lei scenderà un po poi comunque risalirà e arriva a un certo punto che sarà il cento per cento poi va via il sole va via il sole inizia a essere tutto consumo passivo e produzione non entra quindi magari arrivo a casa le otto di sera la situazione è questa otto e mezza di sera sono arrivato da poco già fatto una doccia abbiamo delle luci accese ho già iniziato a fare qualcosa usato a dieci minuti il phon siamo ora al 92 per cento perfetto da questo momento in poi sta tutto il trucco del discorso di quanto riuscire a essere autosufficienti indipendenti e qui di conseguenza risparmiare perché il punto dolente della vita con una polo station o comunque con un fotovoltaico con un accumulo e la sera dalla dalla cena fino al mattino è lì che bisogna essere bravi imparare a consumare il meno possibile perché perché chiaramente se fate la lavastoviglie dopo cena vi mettete a fare la pizza o che cavolo ne so è tutta energia che andate a sottrarre dalla batteria e al mattino dopo non ci arrivate è inevitabile io ancora non sono riuscito a inculcare bene quest'ottica nella mia famiglia ma ci stiamo arrivando è anche mia moglie sta iniziando a capire mi lasciare la lavastoviglie per pranzo magari nel weekend un po un po più complicato però in settimana con gli orari tutto organizzato riusciamo a gestire bene io ho la fortuna di andare quasi sempre a casa pranzo mentre c'è il sole carico la lavastoviglie la faccio partire e la faccio gratis però ragazzi vi dico che io ottimizzando in questo modo con i pannelli messi così come sono e con questi 5 kilowatt io ci sono molti giorni insomma tutti i giorni dove c'è il sole che io non compro corrente perché riesco a farmi le 24 ore come strutturata a casa mia casa mia un alloggio normale bello grosso 130 metri sopra ho tutta la taverna box il giardino eccetera però non ho il piano induzione non ho la pompa di calore o la caldaia o il forno la lavastoviglie la lavatrice le cose normali se avete una casa con consumi molto più elevati bisogna pensare ad un impianto più grosso come batterie o completamente diverso in un contesto normale di appartamento di vita quotidiana come la mia io vi dico tranquillamente che con questa macchina potete arrivare quasi a zero consumo quasi perché purtroppo non c'è sempre il sole e purtroppo non sempre si può fare la lavastoviglie o la lavatrice a pranzo questo lo capisco benissimo quindi cosa vi dico vi dico che tanta roba tanta roba io pensavo di prenderla per poi rivenderla invece la tengo la tengo perché non pensavo che con soli due kilowatt in più sarei riuscito ad essere invece completamente autonomo e lo sono quindi tanta roba una bella macchina fatta bene funziona benissimo l'app magari lascia un po desiderare non è velocissima poche opzioni però la qualità c'è le batterie ci sono l'inverter funziona benissimo i regolatori delle stringhe sono fantastici insomma ragazzi ve l'ho già detto prima io queste macchine le ho scelte ne proverò continuerò a provarne anche altre ma secondo me al momento sono le migliori non volevo dilungarmi troppo nel video è venuto comunque lungo guardatevi comunque anche gli altri per farvi un'idea di tutto ho parlato di pannelli ho parlato di quadri di protezione ho fatto video del commutatore insomma fatevi una cultura generale perché in questo discorso bisogna apprendere tante nozioni qua e là se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando è gratis iscrivetevi al canale noi ci vediamo al prossimo video la prossima diretta il giovedì sera se passate in provincia di torino potete venire a trovarmi in negozio i bluetti in base al periodo a cosa in casa ve li posso anche far provare con mano ciao da massidattoli anche qui i cavi sono gli stessi di ac 300 non mi soffermo se avete visto quel video sapete già di cosa sto parlando sono i classici connettori circolari che si innestano si abitano e sono sicurissimi